Ha sfiorato Lamplein, la società balestriere gubina, nella sesta edizione del torneo BAI, balestra antica all'italiana, svoltosi sabato nello scenario di Piazza Grande al quale hanno partecipato anche i balestriere di Sansepolcro a Sisi e per la prima volta a Chioggia, invitata con il palio della Marcilliana. Il titolo a squadra è stato conquistato dai balestriere di Sansepolcro con 281 punti, che hanno preceduto però di appena tre lunghezze e 278 quelli di Gubbio, a seguire Chioggia 263 ed Assisi 253. Ma il titolo individuale e il collare di campione BAI per l'anno 2019 è stato conquistato dal balestriere eugubino Claudio Mancini, che ha avuto la meglio sul compagno di squadra Carlo Venanzi e sulle biturgenze Claudio Boncompagni. Le premiazioni sulla scalea di Palazzo dei Consoli in un pomeriggio a Foso hanno visto la presenza del sindaco di Gubbio Stirati, dell'assessore al turismo e cultura Fiorucci e del presidente della società balestriere eugubina Marcello Cerbella, cui spetta il merito di un'ottima organizzazione di una giornata che ha riproposto il fascino indiscusso della balestra, dei corte storici, delle suggestioni che sanno proporre ogni volta gli sbandieratori, disegnando con i loro vessilli numeri e messaggi, dei brividi che regala il campanone con la sua voce unica, possente e inconfondibile. Emozione e spettacolo autentico in Piazza Grande, insomma alla presenza di un pubblico numeroso, i cui applausi finali hanno sottolineato soddisfazione, condivisione e gratitudine per una giornata che ha richiamato il fascino di epoche lontane. La giornata si è conclusa con il corteo storico, che in qualche modo ha fatto d'anteprima alla grande serata del 14 agosto, quando sarà il torneo dei quartieri, a diventare evento protagonista della notte della vigilia di ferragosto, con i quattro quartieri che animeranno la manifestazione e un grande corteo che vedrà centinaia di figuranti susseguirsi fino a Piazza Grande, dove si svolgerà la sfida stracittadina tra i balestriere e ugubini, suddivisi stavolta per appartenenza di quartiere, San Pietro, detentore del titolo, Sant'Andrea, San Giuliano e San Martino.